Nel video di oggi ci occupiamo come sbrogliare una scheda per realizzare un piccolo circuito stampato tramite Eagle. Quindi come prima cosa scarichiamo Eagle dalla rete che è un software che entro certi limiti può essere utilizzato gratuitamente. Al lancio di Eagle viene lanciato il control panel che contiene tutte queste cartelle con le informazioni che servono a Eagle. Nella cartella project vediamo che c'è già una cartella Eagle. Per creare un nuovo progetto selezioniamo la cartella Eagle e col tasto destro facciamo new project. Scegliamo ad esempio prova. Dopodiché facciamo col tasto destro sopra la cartella prova new schematic e a questo punto Eagle apre una pagina di schematico dove possiamo cominciare a piazzare il nostro circuito. Io voglio realizzare uno schedino per il generatore di alta tensione, quello che da 12 volt riesce a generare fino a quasi 70-80 mila volt. Come prima operazione piazziamo un componente, ad esempio una resistenza, quindi andiamo a scegliere nella barra strumenti laterale questo pulsante che è add. Premendo add si apre una finestra nella quale sono caricate tutte le librerie. Allora per la resistenza cerco ad esempio la parola resistor nella barra di ricerca e mi vengono aperte tutte le librerie con le resistenze. Quelle che ad esempio si possono utilizzare sotto la libreria resistor, la categoria RUS, io utilizzo per esempio questa resistenza. Qua sulla destra ho il simbolo e la parte già disegnata. Qua tra l'altro c'è anche l'indicazione della scala per cui si vede la dimensione del package della resistenza. Una volta selezionata spingendo OK si può piazzare la prima resistenza. Se col tasto destro si clicca si può anche già girare e col tasto sinistro si piazza. Per attribuire il valore alla resistenza si può selezionare il tasto I di info e poi cliccare sul componente. Viene aperta la pagina delle proprietà. Nel campo value per esempio possiamo mettere 470 ohm. Le stesse proprietà potevano essere trovate facendo col tasto destro sulla resistenza. L'ultimo comando è properties che è la stessa identica maschera. Se voglio girare solo il nome e il valore rispetto al componente devo separare nome e componente dal simbolo per cui utilizzo questo pulsante che è lo smash. Clicco sulla mia il mio componente su questo qua che è il riferimento. A questo punto mi compaiono altri due riferimenti che sono appunto le due parti di cui posso ruotare ad esempio la scritta. Quindi se uso il tasto rotate questo qui e vado a selezionare il riferimento del testo girerò r1 e 470. Se poi voglio spostarli scelgo il pulsante di move su questa barra e vado a spostarmi il mio reference e il mio valore dove voglio. Per fare zoom sulla pagina basta utilizzare la rotella del mouse. Per piazzare un'altra resistenza potrei ad esempio copiarla. Quindi utilizzo il bottone di copy, seleziono il componente e mi viene subito generato un altro componente che piazzo subito sotto. Guardate che Eagle ha già messo il reference giusto quindi r2 col valore giusto. Adesso che ho i primi due componenti posso dare un'occhiata alla board per cui utilizzo questo tasto che è chiamato generate switch to board e ovviamente mi informa che non è stata ancora non esiste ancora la board e mi chiede di crearla quindi gli dico di sì. Ecco che allora si apre un'altra finestra con la board. Notate che questo rettangolo ha dimensioni che sono quelle massime per la licenza standard di Eagle quindi circuito stampato con dimensioni massime per poter essere utilizzato con Eagle. Possiamo misurarlo utilizzando questo tasto. Qua siamo finiti appunto nella schermata della board. Questo tasto sulla sinistra è il dimension cioè quello che mi permette di misurare gli oggetti. Quindi cliccando clicco sul primo riferimento ad esempio vado qua nell'origine poi con il mouse cliccando mi viene creata la misura. Adesso la misura ha i numeri al contrario perché è il layer selezionato al bottom cioè quello il piano lato saldature. Se scelgo come layer tnames che è quello utilizzato per le serigrafie ecco che vediamo che la misura mi viene scritta con il layer delle serigrafie. Andando a cliccare qui vediamo che la misura in orizzontale della scheda per la licenza standard sono 100 mm. Ecco le dimension sono indicate in millimetri si possono anche convertire in pollici. Vediamo l'altezza quindi faccio nuovamente dimension vado dalla parte dell'angolo inferiore fino all'angolo superiore. Ecco vediamo che 80 per cui la scheda standard con la licenza di eagle massima è una 100 x 80. Vediamo che fuori dalla scheda sono già presenti le mie due resistenze che posso già piazzare per cui uso il tasto di move questo qua sulla sinistra e vado a piazzare la prima resistenza r1 ad esempio qui la seconda subito qua. A questo punto se spingo sul bottone switch to schematic ritorno sulla parte di schematico. Allora è importante tenere sempre aperte le due pagine schematico e board in quanto le modifiche che si fanno da ambo le parti vengono poi riportate quello che va sotto il nome di back annotation e forward annotation. Facciamo un esempio se io ad esempio adesso aggiungo un altro componente diciamo un condensatore qua scrivo capacitor per andare a cercare i miei condensatori ne posso scegliere uno ad esempio della vima adesso ne prendiamo uno a caso e lo andiamo a piazzare vado di nuovo sulla board con il pulsantino vediamo che il condensatore mi è apparso quindi c'è stata questa forward annotation cioè appena ho fatto una modifica sullo schema è stata riportata anche sulla board a questo punto posso piazzare anche il condensatore ecco diciamo subito qual è una limitazione della licenza standard se io adesso provassi a rispostare il mio condensatore fuori mi direbbe che la standard edition non può far portare componenti una volta piazzati e questo in effetti è un po scomodo perché se immaginate che i componenti sono tutti fitti e li vogliamo spostare devono essere spostati all'interno della scheda bene adesso tracciamo delle piste fra i componenti quindi scelgo lo strumento di wire vado su un componente sul reoffero della resistenza ad esempio col tasto sinistro inizio il filo col tasto sinistro sempre doppio clic finisco il filo a questo punto r1 r2 sono collegati poi posso ripetere l'operazione per r1 e c1 col doppio clic si termina e infine tra c1 e r2 quindi abbiamo messo i tre componenti in serie se vado sulla board a questo punto vedete che i collegamenti sono già presenti come airwire cioè mi viene detto come questi componenti vengono a essere collegati secondo lo schema che ho fatto vedo subito che il piazzamento di r1 e r2 non è conveniente perché abbiamo che i reofori sono incrociati quindi le piste che dovrei fare sarebbero incrociate quindi come prima cosa posso ruotare r2 di 180 gradi posso fare cioè un'operazione di mirroring quindi scelgo il tasto del mirroring che è questo qui con le due freccettine e decido di ruotare a specchio r2 ecco vedete che r2 adesso è diventata diciamo allineata con i fili avendo selezionato il mirroring anche il nome è stato mirorato quindi per riportare r2 nella giusta posizione devo fare uno smash come abbiamo fatto nello schematico cioè separo il componente dalla serigrafia e poi decido di ruotare la sola serigrafia ad esempio così quindi r2 e il valore 470 e poi faccio un move per spostarli appunto a questo punto abbiamo che il componente è stato specchiato e i fili sono dritti ora voglio tracciare le piste fra i miei componenti quindi come prima cosa scelgo sempre lo strumento qua sulla barra sinistra di route questo è per fare un route manuale si può fare anche un route automatico per il route manuale semplicemente vado sul primo reoforo da dove parte il filo e lui mi dice che questa diciamo sono i due reofori da collegare quindi col tasto sinistro si parte e si fa la pista in questo caso è stata fatta rossa perché il layer era top per vedere la funzione di auto route all'opera inseriamo tutti i condensatori che ci servono per il generatore di tensione come copia e quindi per esempio adesso a titolo di esempio ne metto 4 o 5 ecco e poi realizziamo i collegamenti fra questi condensatori per concludere il cablaggio bisogna mettere delle junction che sono i pallini che si mettono appunto sulle giunzioni per mettere in collegamento le varie net quindi i vari fili questo è importante perché se non viene fatto le piste potrebbero non contattare e quindi quando vado poi sulla board non mi trovo i fili andando sulla board a questo punto mi trovo tutti i miei condensatori da piazzare che li andiamo a spostare subito ecco e li sposto in maniera che le piste vengano ordinate vedete qua per esempio c'è un altro incrocio il piazzamento è molto importante perché in base a come verranno le piste si può riuscire a fare un circuito che sia singola faccia o comunque con meno layer possibile se il piazzamento è fatto correttamente io comunque consiglio prima di andare a piazzare di farsi un'idea di massima di dove andare a mettere i vari componenti usiamo l'autorouter quindi un tool che permette di tracciare le piste in automatico selezionandolo dal tasto autorouter questo qui a questo punto mi viene chiesto che tipo di algoritmo utilizzare per il routing quindi in base alla complessità e al tipo di vincoli che io posso andare a settare nelle direction e nei layer lui cercherà di fare le piste per noi adesso lasciamo le impostazioni di base che ci propone 4 compiti di routing facciamo continue a questo punto gli diamo start ecco in base lui quindi ha creato questi task ed è riuscito, ha creato queste 5 alternative di routing allora nella prima vediamo che abbiamo usato una pista di massa qui sotto questa blu quindi il rosso è sempre il top il blu è sempre il bottom nella seconda abbiamo due piste bottom nella terza abbiamo tre bottom e due top quindi vedete com'è importante posizionare i componenti questo se fosse stato messo bene probabilmente si riusciva a fare con un singola faccia cioè senza l'utilizzo di due layer diversi ad esempio disponendo i componenti in questa maniera si riesce a fare un routing utilizzando solo uno strato questo l'ha tirato fuori l'autoroute una volta che la disposizione dei componenti è stata cambiata bene ora che abbiamo visto l'esempio vi faccio vedere lo schema che ho completato per il generatore di alta tensione quindi come avevamo visto nelle puntate precedenti abbiamo l'IGBT con il diodo zener il partitore di tensione per creare la retolazione sull'IGBT il trasformatore flyback e il moltiplicatore di Cockroft Walton che è fatto da queste celle queste otto celle di moltiplicazione rispetto alle versioni che abbiamo visto con gli esperimenti ho inserito due diodi in serie per ogni singolo diodo dell'altra volta per poter tenere l'elevata tensione che è stata misurata infatti abbiamo visto che ogni singola cella nel mio caso con questo trasformatore ogni singola cella il condensatore appunto tiene 8 kV quindi ho scelto dei condensatori da 10.000 volt in pastiglia sono riuscito a trovarli guardiamo questo trasformatore spesso bisogna creare dei simboli diciamo custom che non sono presenti in libreria io ad esempio ho realizzato un trasformatore in ferrite Siemens RM10 che aveva 3 avvolgimenti quindi questo W1, W2, W3 in libreria non esisteva nel simbolo il simbolo di questo trasformatore quindi ho dovuto crearlo vediamo come si fa come prima cosa bisogna controllare nelle parti standard se esiste almeno la shape quindi la forma da inserire nel circuito stampato nel mio caso RM10 è la parola chiave che userò con degli asterischi prima e dopo per trovare in libreria perché RM10 è la sigla che la Siemens dà a questo nucleo in effetti vedo che ci sono questo RM10 3B e 4B che diciamo come shape va bene come avvolgimenti invece da un punto di vista dei pin in particolare a me non andava bene quindi l'ho modificato allora bisogna innanzitutto sapere in che libreria si trova per poterlo andare a modificare la libreria è indicata qui sopra nel mio caso appunto Trafo Siemens per accedere ai simboli da pannello di controllo quindi quello che è stato lanciato all'inizio bisogna andare nella sottocartella Libraries e andare a cercare appunto la libreria che ci interessa nel mio caso era la Trafo Siemens quindi la troviamo da queste parti eccola qui se la apriamo infatti vediamo che ci sono tutte le parti tra cui questa qua la RM10 3B che è quello che io voglio utilizzare come template quindi come prima cosa la copio quindi la seleziono tasto destro copy e poi vado a inserirla nel percorso dove Eagle tiene le librerie e la chiamo libreria per esempio a questo punto libreria che me l'ha creata qua è un'esatta copia di quella da cui ho preso l'esempio adesso andiamo a modificare il simbolo come mi interessa per modificarlo con il tasto destro seleziono Open in Library a questo punto mi viene aperto il simbolo e la shape allora supponiamo che nel mio caso voglia cambiare i pin su cui esce l'avvolgimento W3 allora per farlo devo utilizzare questo tasto dal menu Edit scelgo Connect e mi viene data appunto l'associazione fra le pad del simbolo quindi quelle che sono state nominate da 2, 5 eccetera e i connettori quindi supponiamo di voler cambiare i pin 7 e 12 ad esempio in 8 e 11 come prima cosa li devo disconnettere quindi vado a prendere il 7 e clicco su Disconnect e il 12 Disconnect a questo punto i pin e le pad sono scollegate ora posso fare i collegamenti che mi interessano quindi dicevamo che questo pin lo mettiamo sull'8 quindi faccio questa associazione e faccio Connect e questo pin lo mettiamo ad esempio sul 10 per fare un esempio perché l'11 è già utilizzato dallo schermo in realtà e lui mi fa il Connect se faccio OK a questo punto i pin su cui escono i miei avvolgimenti sono stati cambiati come pare a me quindi posso salvare il componente ed andarlo a utilizzare nel mio schematico bene andiamo a vedere come è venuta sbrogliata la scheda del generatore HV ecco quindi vedete che qua c'è il trasformatore che ha i pin sugli avvolgimenti che sono stati cambiati rispetto alla forma originaria io ho deciso di organizzare la scheda in un lato bassa tensione quindi questo qua in basso dove ho messo come barriera di isolamento il trasformatore quindi tutto quello che è dalla parte del secondario alta tensione quindi da questa riga in su sarà la mia parte relativa agli 80.000 volt quindi andando a cominciare dal connettore d'ingresso che permette l'ingresso della 12 volt ho previsto un connettorino per portare la 12 volt in esterna se voglio collegare degli altri moduli un pulsante per dare tensione ed eventualmente un jumper per bypassarlo dopodiché abbiamo l'IGBT con i suoi componenti di polarizzazione sul lato alta tensione ecco che abbiamo le celle di moltiplicazione di Cockroft-Walton quindi cominciando dalla prima si segue questo percorso sono andato a inserire delle regole di sbroglio per garantirmi le mie distanze quindi sono riuscito a mantenere circa 11 mm dappertutto sulla parte alta tensione questo è molto importante perché nel mio caso lavorando con tensioni elevate se non riesco a garantire delle distanze opportune potrei avere delle scariche tra pin e pin prima di arrivare in uscita comunque per intenderci l'uscita dell'alta tensione avverrà su questi due morsetti sui quali si possono collegare gli elettrodi per creare l'arco elettrico per quanto riguarda lo sbroglio delle piste ho utilizzato il lato saldature quindi traccia azzurra in tutti quei casi in cui sono riuscito qua è semplice perché è proprio la serie di componenti regolare infatti anche le piste poi si assomigliano da una cella all'altra per la parte bassa tensione invece sono dovuto passare al lato top quindi piste rosse perché avevo questo questi due blocchi da collegare quindi diciamo la parte 12 volt con la parte di polarizzazione del transistor e siccome il mio iGBT è orizzontale sono passato sotto con le piste quindi con queste blu per non dover fare dei giri con le piste rosse top qui sopra e diminuire le distanze di isolamento con il lato alta tensione quando è necessario passare da uno strato all'altro come in questo caso top bottom bisogna mettere una via quindi un foro metallizzato che permette il collegamento delle due piste sfruttando appunto un foro con dentro metallo la via si crea con questo bottone qui sulla sinistra e la si può piazzare dove si vuole anzi Eagle in automatico andrà a mettere una via se si cambia lo strato top bottom mentre si sbroglia la pista ovviamente lo strato della la dimensione della via può essere modificata quella che viene proposta qui infatti andando ad agire sulle proprietà se ne possono cambiare forma dimensione come sempre per andare ad accedere alle proprietà selezioniamo il tasto info clicchiamo sulla via e ad esempio scegliamo ottagonale come forma e andiamo a mettere come dimensione questo drill che è espresso in pollici quindi è 0,02 pollici se andiamo a scegliere ad esempio 0,05 questa qua un po' più grandina ecco che vediamo che è ottagonale e con la misura aumentata ogni componente deve avere poi la sua serigrafia quindi l'indicazione della reference e questa reference ha un layer particolare se andiamo su info che è in questo caso di eagle 25 tnames cioè i nomi top quindi bisogna spostare e muovere le serigrafie perché siano chiaramente leggibili inoltre nel caso della mia scheda sempre con il layer di serigrafia ho messo il nome della scheda la revisione e il mio logo quindi verrà stampato sul lato top se si vuole fare un montaggio anche sul lato bottom è possibile facendo il mirroring del componente e andando a scegliere nella serigrafia invece che il tnames lo strato 26 bnames quindi sono il bottom quindi se scegliessi questo questo qua verrebbe serigrafato nel lato bottom se una pista non ci convince e vogliamo cambiarla la possiamo smontare con questo tool che è chiamato rip up quindi selezioniamo e andiamo a selezionare la pista da smontare quindi mi viene eliminata la pista ma mi viene lasciata la airwire come si chiama cioè il collegamento logico fra i pin infatti vediamo che tp2 in questo caso questa pad deve essere collegata a questo piedino 3 del trasformatore e a questo piedino e mi ha fatto l'airwire posso decidere di risbrogliarla quindi come al solito scelgo il tool di root e ad esempio la voglio sbrogliare sul lato top quindi scelgo top e a questo punto vado a fare la mia pista ecco come buona norma è sempre bene evitare gli angoli retti e le y per cui su questo tool di root si può selezionare questo tastino e scegliere la formula di root che si vuole questa per esempio fa gli angoli a 45 gradi questa addirittura fa le piste stondate quindi potrai fare una pista ad esempio stondata così per cambiare la dimensione della pista infatti ricordiamo di fare piste non troppo piccole come al solito scegliamo info andiamo sulla pista e andiamo a cambiare la width quindi lo spessore io adesso sono standard a 0016 ad esempio potremmo farla se vogliamo esagerare 01 ecco che diventa un pistone di potenza questo anche per la seconda parte 001 ecco che diventa una pista per portare molta più corrente per selezionare solo alcuni layer si può ricorrere allo strumento qua dei layer e andare a scegliere ad esempio non quindi nessuno solo il lato bottom vediamo come sono le nostre piste bottom ecco che qui appunto abbiamo l'indicazione delle net all'interno delle piste solo del lato bottom possiamo scegliere ad esempio il lato top quindi vediamo quali sono le piste sul lato superiore nel caso di questa scheda io ho l'unica area di rame per dissipare calore sul transistor e le piste che mi servivano per sbrogliare il connettore se voglio vedere le serigrafie andrò a scegliere il layer 25 che sono tnames e sono le appunto le reference per i fori sullo stampato c'è questo tool che è proprio sotto le via e sono appunto dei fori a stampato io ne ho previsti 4 sui 4 lati più altri 4 qua dal trasformatore nel caso che volessi montare un toroide per poterlo fissare eagle dà anche la possibilità di impartire comandi tramite script o piccoli programmi qua da linee di comando si possono andare a inserire dei comandi per esempio come il move lo smash e via dicendo proprio da riga di comando risulta molto comodo perché sono messi a disposizione nella cartella eagle ulp che contiene degli script tutta una serie di programmini che permettono di fare delle mosse in automatico ad esempio per cambiare la larghezza delle piste in una botta sola si può utilizzare questo cmd change brd width quindi andando sulla riga comando della nostra board si può scrivere run poi il comando cmd change brd punto width se vado invio mi arriva in programma associato a questo comando per esempio gli posso dire di aggiungere i segnali che mi interessano quindi le net in questo caso potrei dire tutte le net vorrei che venissero sbrogliate con una larghezza di pista di 0.5 quindi molto grande facciamo l'esempio se faccio ok ecco che vedete che si 0.5 è un po' esagerato comunque lui ha applicato la larghezza delle piste come gli ho specificato questi programmi possono essere creati anche custom quindi se li andiamo a aprire con un editor di testo ad esempio il notepad vediamo che sono dei programmi scritti con un linguaggio similcì quindi si possono customizzare dei comandi impartendo appunto delle istruzioni prima di procedere al rilascio di una scheda bisogna verificare che non ci siano errori quindi lato schematico quello che si fa si lancia un tool chiamato di ERC che mi va a verificare eventuali problemi ad esempio qua ho dei warning quindi delle diciamo così degli allarmi che mi dicono attento questa net è troppo vicina a quest'altra questi sono dei warning per un discorso di disegno però se ad esempio mi fossi dimenticato di collegare due pin qua mi verrebbe detto che per esempio qua no pin in questa net è sempre un warning in questo caso perché ho fatto un cortocircuito tra due fili e mi viene detto attenzione non ci sono componenti fra questa net e questa net quindi una volta che sono stati esaminati tutti i warning sollevati dal DRC e siamo sicuri che non ci sono problemi bisogna rivedere anche lo sbroglio per lo sbroglio la cosa ovviamente è un pochino più complessa perché bisogna andare a definire delle regole di sbroglio quindi qua ci viene in aiuto un tool che è il DRC quindi dalla board selezioniamo il DRC ecco che mi vengono aperte tutte le regole di design quindi sui layer ad esempio posso andare a impostare le distanze di isolamenti sul rame le clearance quindi le distanze espresse proprio in mille quindi in millesimi di pollice distanze dimensioni le restrizioni le forme quindi adesso qua non possiamo ovviamente trattare questo tema perché è molto lungo però se si definiscono delle distanze delle regole queste verranno applicate dall'autorouter quando si vanno a sbrogliare le piste e verificate in fase di verifica della scheda ad esempio per questa scheda se vado a guardare gli errori vengono segnalate delle clearance quindi ci sono qua mi fa vedere che ci sono delle regole violate ad esempio qua c'è una via ottagonale la cui clearance non è rispettata la cosa bella è che cliccando su tutti questi errori vengono assolutamente visualizzati dove sono e qual è il motivo quindi una volta passati tutti questi errori approvati o processati possiamo dire di essere pronti per rilasciare la scheda e quindi creare i cosiddetti file gerber i file gerber sono i file costruttivi che servono per produrre il circuito stampato nel caso di eagle bisogna attivare il cam processor con questo quarto bottone e andare a specificare che tipo di sbrogliatore diciamo di costruttore tecnologico utilizzare quindi nelle device c'è una scelta fra diverse possibilità ad esempio si potrebbe scegliere questa qua excelon ma è solo un esempio e una volta selezionato il device fare process job a questo punto si mi chiede giustamente di definire qual è l'output su cui fare l'uscita dei gerber facciamo un esempio per creare il file delle forature quindi da cam processor selezioniamo file open job excelon questo che dicevamo prima e in questa sezione abbiamo generate drill data quindi verrà prodotto un file di tipo drd si vede che nei layer disponibili sono stati infatti selezionati da questo job le drill e le holes quindi le forature e i buchi facendo process job viene creato un file nella cartella del progetto di tipo drd con appunto le forature per la generazione dei file gerber sui layer ad esempio possiamo scegliere un altro job che è questo gerber gerb274x.cam e qua abbiamo più sezioni lato componenti lato saldature il seal screen quindi su tutte queste schermate impostando i vari valori se facciamo process job vengono creati i file gerber per verificare i file gerber prodotti ci sono tanti visualizzatori di file gerber io ne uso uno free che si chiama gerbv gerbv da la possibilità di aprire i file gerber quindi se io vado a selezionare la cartellina dove sono stati creati i miei file gerber nel mio caso appunto la cartellina eagle abbiamo selezionando la cartellina e facendo apri vengono aperti appunto tutti gli strati ovviamente prima è necessario aprire un progetto nuovo quindi facciamo un new project e andiamo a selezionare appunto i gerber da importare per aprirli dal menu file facciamo open layer e andiamo a scegliere la cartellina dove sono stati memorizzati i nostri file quindi nel mio caso questa mini hv li selezioniamo tutti anche se in realtà poi certi non sono layer ma il tool poi quelli che non sono layer diciamo li scarta e andiamo a vedere i nostri layer appunto tutti questi sono stati non riconosciuti come layer però quelli diciamo che erano layer veri e propri sono stati riconosciuti e messi qui quindi possiamo riconoscere il nostro sbroglio ecco riconosciamo esattamente come sono stati sbrogliati quindi layer per layer possiamo andare a selezionare come si faceva poi in eagle i vari componenti per vedere che sia tutto presente ecco come tutorial io ho terminato volevo farlo abbastanza breve per un primo utilizzo di una schedina semplice che potesse essere sfruttata con la licenza standard di eagle quindi una schedina di massimo 10 cm per 8 cm spero che vi sia stato utile comunque se avete delle domande postatemele pure nei commenti che vi risponderò appena possibile che vi sia stato utile Grazie.